Benvenuti, inizia il nostro tour! Se cerchi una mappa, qui c'è la brochure! Qui c'è il forno per le caramelle! Sono fatte con amore, ma lo zucchero è alle stelle! Qui lavoriamo l'elasticità del toffi! La vera efficienza sta nella sua consistenza! Quando si è allungato a sufficienza lo appendiamo, poi dopo lo tagliamo e lo confezioniamo! Siate benvenuti nel mondo dei dolciumi! Felici e soddisfatti, sarete stupefatti! Siate benvenuti nel mondo dei dolciumi! Felici e spensierati, siete proprio fortunati! Provate questo bastoncino dolce e salato! Oppure ancora meglio, olio a zucchero filato! Cadiamo dalle nuvole, un po' come nelle favole! Qui non ci sono regole, aver paura è inutile! Questa è la foresta di cristallo, ma sai, quello è lo sballo! Un coro dolce, verde, rosse e giallo! Sono sempre deliziosi, colorati e gommosi! Ancora in cadere, diventa comestibile! Siate benvenuti nel mondo dei dolciumi! Felici e soddisfatti, sarete stupefatti! Siate benvenuti nel mondo dei dolciumi! Felici e spensierati, siete proprio fortunati! Il croccante è molto buono, se lo mangio mi emoziono! Guarda queste caramelle, così morbide anche belle! Coloranti, artificiali, nuovi gusti originali! E' un anno di provare le come da masticare!